ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il video contest avevo detto che non avrei fatto più video contest di questo tipo però mi vedo costretto a farlo perché sono incasinato diciamo c'ho abbastanza impegni come avete visto non ho fatto anche video ieri e l'altro ieri comunque ho fatto video così quindi niente allora per questo video contest andremo a fare un sorteggio come qualche settimana fa che facciamo un sorteggio e qui in pratica si svolgerà alla stessa maniera per partecipare a questo contest settimanale per vincere questo account modato che cosa dovete fare condividere il video iscrivervi al canale e lasciare un commento se lasciate un commento e siete solo di passaggio succederà come è successo qualche settimana fa che il vincitore non si è riscritto al canale non ha lasciato il commento cioè ha lasciato solo un commento partecipo non ha fatto la condivisione e comunque quando io ho dichiarato il vincitore lui non ha ritirato il premio quindi se volete continuare a diciamo a usufruire di questo contest vi conviene iscrivervi al canale per sapere quando io pubblicherò il video dove dichiarerò il vincitore del contest per vincere questo contest dovete solamente commentare il video iscrivervi al canale avere le iscrizioni pubbliche in maniera tale che io posso verificare se vi siete iscritti non mi fate premia persone che dicono solo partecipo e poi non ci sono nemmeno iscritti al canale anche perché faccio dei sacrifici per il canale e quindi nulla mi dispiace fare l'estrazione così questa settimana ma purtroppo sto incasinato di impegni come vi ho già detto e quindi nulla iscrivetevi al canale commentate e condividete il video solo questo serve per questo video contest per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale